Ben trovati al meteo. Dopo la variabilità portata dal passaggio di un impulso instabile, il tempo migliora anche se non è esclusa ancora qualche pioggia. Il dettaglio di giovedì 25 maggio. Sul Veneto avremo una nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Avremo frequenti annuvolamenti associati a qualche probabile precipitazione specie sul Veronese ma localmente anche sulle Alpi. Andrà migliorando con il passare delle ore. Temperature stazionarie minime tra 12 e 17 gradi, massime tra i 23 e i 27 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui tempo più stabile con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece intorno ai 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove la mattinata vedrà rovesci e temporali piuttosto diffusi, poi con il passare delle ore in attenuazione. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi massime sui 25 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.